È tornato a trovarci nei nostri studi Riccardo Sbaffi, vicepresidente della sede operativa dell'Admo di Macerata, nonché vicepresidente regionale. Con te parliamo di una bella iniziativa che partirà proprio domenica prossima, 19 gennaio, realizzata con la collaborazione dell'azienda delle Sorelle Feleppa. Vuoi parlarcene? Sì, un evento di sensibilizzazione che le Sorelle Feleppa hanno proposto ad Admo Marche. L'evento si chiama Un abito per la vita. Hanno deciso di mettere in vendita pezzi della loro collezione presso il centro commerciale Cuore Adriatico e devolvere una parte del ricavato delle loro vendite per Admo Marche. Quindi un bel gesto da parte di questa azienda locale, ma famosa un po' in tutta Europa. Accogliamo di buon grado questo tipo di iniziative da parte di Admo Marche, in quanto le riteniamo necessarie per far promozione verso i giovani. Infatti loro si rivolgono, come un po' noi, ad un pubblico di ragazze tra i 18 e i 35 anni. Quale migliore occasione di quella di domenica per entrare in contatto con nuovi potenziali donatori? Vogliamo approfittare di questa occasione per dare qualche dato? Sì, allora è stato un anno eccezionale, un po' come gli ultimi. Quest'anno, per quanto riguarda le Marche, ci sono state oltre 600 iscrizioni e 6 donazioni. Quindi 6 persone, ragazzi e ragazze, che hanno avuto l'opportunità di donare il proprio midollo osseo per salvare la vita di un malato, di leucemia, di linfoma, di meloma o comunque sia di un tumore del sangue. Vogliamo ricordare cosa bisogna fare per iscriversi all'Admo? Per iscriversi all'Admo è necessario appunto un requisito anagrafico che è 18-35 anni, godere di un buono stato di salute ed avere un peso corporeo superiore ai 50 kg. Per l'iscrizione è tutto molto semplice in quanto basta un semplice prelevo di sangue fatto presso i centri trasfusionali degli ospedali regionali e in seguito ad un colloquio con un medico e la compilazione di alcuni moduli si entra a far parte del registro donatore midollo osso, IBM e DR, che è un registro italiano ma che poi è collegato a tutti i registri del mondo. E per incrementare sempre più la diffusione di questa iniziativa di solidarietà avete organizzato anche delle giornate informative in diverse scuole? Sì, l'attività un po' a livello regionale è sempre molto attiva anche verso le scuole, infatti nel 2019 siamo stati presenti in diverse scuole della provincia e della regione. I dirigenti scolastici ci hanno dato l'opportunità di passare una mattinata nelle classi di ragazzi per raccontare le nostre storie, fare sensibilizzazione e iniziare un pochettino a parlare di questa tematica che sempre più spesso sta diventando attuale. Una bella iniziativa che vi vede protagonisti è la Corriadmo. Sì, a Macerata nel 2019 c'è stato questo evento sperimentale, il primo evento di una corsa di sensibilizzazione, è andato molto bene in quanto ci sono state oltre 750 iscrizioni e persone che hanno girato per le vie della città per l'intera giornata. Anche per il 2020 è in programma, probabilmente nel mese di settembre, la seconda edizione di questo evento con delle modifiche e delle nuove attività che andremo ad inserire nell'organizzazione generale. Un appello a tutti i giovani ascoltatori. Il mio invito appunto è quello di invitarvi ad iscrivervi, ad informarvi soprattutto, è molto semplice, magari potrete essere spaventati in quanto ci sono sì informazioni ma molto spesso sono sbagliate. Quindi il mio invito è quello di contattarci sulle nostre pagine social Admo Marche e troverete appunto volontari che non vedranno l'ora di darvi informazioni per l'iscrizione.